Sono a Tulamban, a Bali, in Indonesia. Sto per fare l'immersione nel Relitto Liberty, questo è il resort dal quale sto partendo, il Touch Terminal Resort. Si trova esattamente di fronte l'imbarcazione, è molto facile arrivare, ci si può immergere direttamente a piedi e circa 50 metri dalla costa. Grazie per la visione! Adesso sto entrando all'interno di questa grande stanza che c'è nel Relitto, è molto spaziosa, quindi non ti dà un senso di claustrofobia, anche se per entrare al suo interno Budu mi ha dato la mano. È molto luminoso perché in un punto il tetto è scoperto, quindi è una stanza ma a metà, è facile da ispezionare, non ci sono passaggi difficili, quindi anche per un sub non esperto non ci sono problemi. E quindi, Grazie a tutti. Grazie a tutti.